Emozione, amore, tante cose che ti passano per la testa di una carriera, di dire un'altra volta in Italia, un'altra volta che non voglio andare via, voglio restare qui, voglio fare a qualcuna cosa, è come un regalo alle fans, no? Che cosa ti piace in particolar modo dell'Italia e di Napoli? La gente, la gente, la sua naturalità e l'amore che ti portano, che ti mirano allo giochi, che ti dice in Grecia ti voglio tanto, ti vedo nella tua telenovela. Hai interpretato tanti personaggi, tante donne diverse, a quale sei legata di più? No, tutta, c'è vicino a me differente donne, cui Manuela, Isabel, Maria, Topassio, c'è una donna di tutta quella, stanno qui anche, è un uomo. E qual è il segreto del tuo successo? Non so, non so, oh, sono io? Tu sei religiosa, hai incontrato anche Giovanni Paolo II, che cosa ti senti di chiedere o di dire invece a Papa Francesco? Niente, lui è tutto, è Dio, anche il Papa. Prima, lui è argentino, Argentina è per me come Italia, è sempre un posto molto importante. e lui è un po' molto semplice, tranquillo, rilasciato, che sta con la gente, che gli dà amore, non c'è voce, è algo naturale. Bel tempo si spera, un bacio molto 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 grande, ci vediamo pronto. Ciao! Ciao! Ciao!